E' pieno di zombie qua! C'è uno centinaia di zombie A me pure! Le sto accendo un casino! Ma non è che sono partito dalla casa Ah, ti vedo, ti vedo Bene ragazzi, qui Snager Benvenuti in questo terzo episodio di The Pantheon Epsilon In compagnia di Fenix e W Ciao, ciao a tutti Nel secondo episodio abbiamo trovato la prima lana Abbiamo trovato l'intersezione Ora ci stiamo dirigendo a Citadel of Saphir Pronti raga? Sì Ok, allora Passiamo le cose che non servono Faccio una cosa a Dabrio La magmatura, bastardo La magmatura, bastardo Dabrio! Abbiamo cibo, perfetto No, apposta, apposta, apposta Sto mangiando Purtroppo la costoletta di maniere è cruda E mi dà un cosciotto Come on! Come on! Che è successo? C'è scritto So I tried Ho provato ad essere buono con te questa volta Ci ho provato veramente Ma rompere le palle! Non c'è niente di buono C'è una leva Ok Schiacciare 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 Ti vede questa roba W vieni Andiamo avanti Dove ci troviamo? Dove ci troviamo? Cos'è un bonte? Cos'è un bordello? Cos'è un bordello? Cos'è altissimo? Guardate là sotto E' altissimo E' altissimo Bello, 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 bello Andiamo, andiamo, andiamo Dobbiamo scendere E' probabile Come scendere? Guardate là sotto La sopra La sotto Come ci buttiamo? Dobbiamo saltare Dobbiamo saltare Eh, aspetta Dobbiamo saltare dove? Attento Nell'acqua, nell'acqua Poi troveremo qualche In quell'acqua Abrio ci troviamo? Sì Via Genonimoooooooo Yey Mittafucka No Sono dentro Anch'io sono dentro Chest Perfetto Perfetto Cazzo c'è l'importo Cazzo Ma che cazzo C'era matura Dabala Dabala Ah questa Camila No Rubbiamo i libri Rubbiamo i libri Rubbiamo i libri Rubbato tutto Rubbpto Maldica Lasciare quelli C'è un cazzo qua dentro. Oh c'è una cast. Ok. C'è una cast. Fenix. Ho trovato Zook. Che c'è? Io vado avanti cerco la lana. Vuoi quello che vuoi? Aspetta. Sento zombie. C'è un letto. Perfetto perfetto perfetto. Aspetta che dormiamo. Ok. Chiudi chiudi chiudi. Non si può dormire. Dove è Fenix? E' più di spade. E' più di spade di legno. Non servono un cazzo. Dove è Fenix? Perché c'avevo tre mini zombie. Tre mini zombie. Dormiamo dormiamo. Non si può dormire. Mi stavano picchiando. Si si potevano solo di notte. E' più di zombie. C'è l'inferno dove sono. Ma me li fanno uccidere così. Ah ora si ora sei. Venitemi a prendere. Dove sei? Allora. Allora andanza. Allora andanza. Dobbiamo spiegarci perché sennò che stiamo qua in trappolate. L'ho capito. Andiamo alla ricerca di Fenix. Alla ricerca sta minchia. Ti ho visto morire malamente. E' pieno di zombie. E' pieno di zombie. Sento la cazzata eh. Che cazzo fai? No no no. Sono uscito fuori. Sono uscito fuori. Sono uscito fuori. Io pure. Io pure. Ve che si insegna. Ve che si insegna. Ve che si insegna. Insieme. Aiutami. Lo sappio. Insieme aiutami. Insieme aiutami. Sono solo bastardi. Ti ho detto insieme perché te ne vuoi? Blocco di quarzo. Blocco di quarzo. Che c'è qua? Minizombi. Minizombi. Porca puttana. E' pieno. Aiuto aiuto. Mezzo cuore. Mezzo cuore. Mezzo cuore. Ti pretego io. E' chiuso. E' che Fenix è te chiudi. Non ho niente. Sto lasciando. Tieni qua. Ma posta apposta apposta. Non lo so. C'ho un altro. Non ho apposto un cazzo. C'è il grano. C'è il grano. Casco. Dove siete? Dove siete? C'è il grano. Ci sei passato da avanti. Ho trovato una pozione spirito tua. La pislanzulina. La spada. La spada. La spada. La spada. La spada. C'è il culo. Cagione. Di mano. D'altro. C'è il grano. Andiamo nell'altra. Sfogliami questa. Sfogliamo questa. D'altro. Sfogliamo questa. Non fa che cazzate. Qua 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 qua. ma cosa passano i mob? nooo è chiuso cazzo cazzo abbiamo uno zombie andiamo vieni 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 apritemi apritemi sono qua no ho sbagliato apritemi aspetta vai entro aprimi quello di sopra sono qua chiudi qua chiudi qua non c'ha niente zappo ok c'è un'altra cesta prendila se voi salite dove sono io non accorgete aspetta qua ci sono le ceste vieni da sotto vieni qua che c'è qua dentro dove siete vieni con me c'è una cesta vado prendere la cesta vieni cazzo di zombie perchè mi lasciate so minchia c'ho da vento pieno di gripe aiuto aiuto quella stanza segretaria il cazzo sta diventando notte sta diventando notte devo dormire dove sei mi vedete aspetta aspetta c'è il letto no ho rotto il letto perchè una sola cosa che ho sbagliato cazzo i minizombi cazzo no no capo polenta sono stato troppo lento ma vigna lavoro le cuore le cuore un cuore un cuore nooo ho trovato i libri incantati vaffanculo saltato allora ci sono acqua pieno di libri scritti allora allora poi ci sono pistoni che cazzo ho perso tutto w dove siete io sono dentro una libreria non lo so c'erano centinaia di zombie qua ma qua io sono in un pozzo no porca troia ho trovato la strada forse si scende verso giù porca troia bastarda c'era una scala che scendeva c'era un labirinto cazzo troppo lento era era di arenaria la scala no era una scala una scala a piole ok allora qua c'è scritto standard tour caccio 82 safris chi è che mi spara 156 saf muori bastardo brief tour 44 saf raga dove siete le mie cose le mie cose sono andate a prendere le mie cose è pieno di zombie qua c'erano centinaia di zombie da me pure è successo un casino non è che sono partito dalla casa ti vedo aiutami aiutami venite da me venite da me aiutaci ne è succedo un casino ti stai eseguendo w attento ehm 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 più di zombie più di zombie porca mi zombie di merda è pieno è pieno è pieno è pieno cazzo vaffanculo e io sono qua dentro ehm fenix io sono qui con w è pieno chiudiamo chiudiamo veloce e allora muoi no non morire mezzo cuore oh che bastardi dall'esca vaffanculo che bastardi e buttale giù no oh ricopriamo c'è creeper c'è creeper c'è creeper c'è un zombie con un pollo sopra no la verla abbiamo奶 l'ho preso la carne l'abbiamo ucciso tutti abbiamo ucciso tutti in casa allora chiurie la porta quale porta e porta ha capito aspetta tu proteggimi che prendo la pietra chez culo i2 mi ha attaccato cazzo c'è non mi vedo No, 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 no! Che culo! Che culo! Non mi sale! Ok. Dove che cazzo siete? Andiamo da felice! Min*****a Silverfish... C'è una cesta. Lasciali stare! Sbrigatevi! Ho capito di... di carta e libri... Min*****a, gentile, Silverfish... no 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 stanno salendo come fanno a salire ma chi che mi attacca? ah va dai di qua di qua di qua di qua corri corri ma chi è che ha attaccato all'enderman? qua qua ti vedo vieni vieni arriva 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 che cazzo sta succedendo no mi lagga troppo io non posso fare niente vieni W ti vedo sono qua Fenix andiamo si ti vedo vieni come faccio sono senza cosciotti lascia stare gli zombie costretta a mangiare carne marcia costretta a mangiare carne marcia vanno bruciato vanno bruciato chiudi qua chiudi qua sopra con un blocco stanno scendendo tutti dove 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 vabbè vieni scendi chiudi qua sopra pronti è una malattia venerea questo terzo episodio di The Pantheon e Epsilon termina qui non abbiamo fatto nulla di che in questo episodio abbiamo trovato però questo rifugio pieno di ceste e roba molto interessante quindi RICAPITOLANDO quindi ricapitolando stiamo alla ricerca della seconda lana chiudiamo questo episodio qui da Smaker è tutto da Fenix e W è tutto ci vediamo al prossimo episodio ciao 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 Grazie a tutti.